La musica genera armonia raggiungendo tutti e consolando chi soffre le parole di Papa Francesco che ha ricevuto i partecipanti al quarto incontro internazionale delle Corali in Vaticano. L'Africa può farcela ma bisogna mettere al primo posto la gente e il suo benessere, così il segretario di Stato Vaticano e il cardinale Pietro Parolin. Si intitola Un amore chiamato Madagascar, il docufilm interamente girato da padre Francesco Mazzotta, direttore di Teledeon, che racconta la missione nel paese africano dei padri deoniani. Si rinnova la devozione verso il Santo dei Miracoli e la festa di Sant'Antonio di Padova. A lui è dedicata la mostra fotografica nella parrocchia del Buon Pastore di Barletta. Ad Andria e Bisceglie due nuovi centri servizi, il primo dedicato alle famiglie, il secondo alla prevenzione per una serie di patologie. Ben ritrovati, edizione aggiornata del nostro notiziario. La riuscita dell'esecuzione di tutti è condizionata dall'impegno di ciascuno, dal fatto che ognuno contribuisca al meglio nel suo ruolo, rispettando e ascoltando chi gli sta accanto senza protagonismi. E in sintonia sono le parole di Papa Francesco, che ha ricevuto i partecipanti al quarto incontro internazionale delle Corali in Vaticano. Marilena Farinola. Corali parrocchiali e diocesane, direttori musicisti. È questo il variegato mosaico di partecipanti al quarto incontro internazionale ricevuti da Papa Francesco in Vaticano. Bergoglio ha ricordato tre aspetti essenziali, l'armonia, la comunione e la gioia, servizio alimentato dalla fede e dalla passione musicale. E ha sottolineato che la musica genera armonia raggiungendo tutti, consolando chi soffre, ridonando entusiasmo a chi è scoraggiato e facendo fiorire in ciascuno valori meravigliosi come la bellezza e la poesia, riflesso della luce armoniosa di Dio. L'arte musicale, aggiunto il Papa, ha un linguaggio universale e immediato che non necessita di traduzioni né di tante spiegazioni concettuali. Possono apprezzarla i semplici e i dotti, cogliendone chi un aspetto, chi un altro, con più o meno profondità, ma attingendo tutti dalla stessa ricchezza. Inoltre la musica educa all'ascolto, all'attenzione e allo studio, elevando le emozioni, i sentimenti e i pensieri, portando le persone oltre il vortice della fretta, del rumore e di una visione solo materiale della vita e aiutandole a contemplare meglio se stesse e la realtà che le circonda. Il pontefice ha ricordato che il canto corale si fa insieme non da soli e anche questo, ha evidenziato, ci parla della Chiesa e del mondo in cui viviamo. Il camminare uniti, ha osservato ancora, si può rappresentare come l'esecuzione di un grande concerto. Ciascuno partecipa con le proprie capacità e offre il proprio contributo, suonando e cantando la sua parte e ritrovando così la propria unicità arricchita dalla Sinfonia della Comunione. In occasione della 61esima giornata mondiale dell'Africa, il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, ha celebrato una messa alla presenza di numerosi ambasciatori e sacerdoti africani. L'Africa può farcela, ha detto il porporato, ma bisogna mettere al primo posto la gente e il suo benessere. Damiana Dorotea Sgaramella. L'Africa ha la possibilità e le risorse per affrontare le sfide, ma bisogna mettere al primo posto la gente e il suo benessere. Sono state le parole del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, rivolte ai media vaticani a margine della messa celebrata per la 61esima giornata mondiale dell'Africa nella Basilica di Santa Maria Maggiore di Roma. Alla celebrazione erano presenti gli ambasciatori del gruppo africano della Santa Sede, le missioni diplomatiche residenti accreditate nella Repubblica Italiana e le rappresentanze permanenti africane accreditate presso le Nazioni Unite. Inoltre hanno presenziato i prelati africani della Curia Romana e i sacerdoti africani in Italia. Nella sua omelia il cardinale Parolin ha ricordato le sfide, le difficoltà e i contrasti del continente africano, ma anche gli aspetti di speranza, citando le parole di Benedetto XVI e ancora prima Giovanni Paolo II nella Ecclesia in Africa. Ha un aspetto personale per me questa celebrazione perché mi sento vicino all'Africa. Ho potuto visitare parecchi paesi in questi anni e poi avere contatti sia con la Chiesa che con i governi e le autorità, ha spiegato poi il porporato ai media vaticani. Per me è un momento di gioia essere qui e condividere la preghiera. Credo che l'Africa deve farcela da sola, ha le forze, alle risorse, alle ricchezze di tutti i tipi, ma ha anche bisogno di amici sinceri della comunità internazionale che lavorino per i popoli, la gente, la pace, la riconciliazione e lo sviluppo del Paese, ha aggiunto il segretario di Stato. Per Parolin il sostegno della comunità internazionale è necessario perché il continente si trova in situazioni molto difficili e in mezzo a tanti conflitti molto cruenti che fanno soffrire molte persone. E infine ha assicurato che la Santa Sede aiuta a livello della Chiesa africana perché siamo una sola famiglia, anche attraverso le enunziature e attraverso l'interesse diretto che il Papa manifesta nei confronti dell'Africa. Lì dove possiamo, ha ribadito Parolin, cerchiamo di dare una mano. Si intitola Un amore chiamato Madagascar, il docufilm interamente girato da padre Francesco Mazzotta, direttore di Teledeon, che racconta la missione nel paese africano dei padri deoniani. Andrà in onda a partire da venerdì prossimo, da domani alle 21.15 su Teledeon, canale 19 del digitale terrestre. Alba Di Palo. Una comunità nata quasi per caso a farne parte chi pensava di viaggiare per raggiungere la Finlandia e stabilirsi lì, oppure chi progettava di continuare gli studi a Roma, mettendosi poi a servire chi aveva fame di sapere. E invece il destino provvidenziale ha voluto che i giovani sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù raggiungessero il Madagascar, terra selvaggia e arida, assetata di futuro ma senza guida. Laggiù, circondati dall'oceano indiano, tre deoniani hanno scritto con coraggio e tenacia la storia e il domani di uomini, donne e bambini che vivevano di semplicità. Formazione, istruzione e fede sono stati i fari che hanno illuminato i passi di padre Peppino, padre Nicola e padre Gaetano che con forza e volontà hanno aiutato la crescita di zone dal presente ancora primordiale. Il lavoro svolto è raccontato nel documentario intitolato Un amore chiamato Madagascar, interamente girato e realizzato da padre Francesco Mazzotta, direttore responsabile di Teledeon che ha trascorso sull'isola africana un mese alla ricerca di testimonianze, volti, sorrisi e paesaggi che restituissero l'impegno e l'affetto donato dai deoniani. Un amore chiamato Madagascar diventa così un album dei ricordi in cui i protagonisti riassaporano le esperienze vissute in treccio di emozioni complesse e forti che hanno contribuito a erigere il futuro della popolazione malgascia. Il racconto sarà trasmesso i prossimi 14, 21 e 28 giugno alle 21 e 15 su Teledeon, canale 19 del digitale terrestre per la Puglia e la Basilicata, canale 86 per la Calabria e 110 per la Campania. Si rinnova la devozione verso il Santo dei Miracoli e la festa di Sant'Antonio di Padova. Lui è dedicata alla mostra fotografica allestita all'interno della parrocchia del Buon Pastore di Barletta. L'esposizione, fruibile fino al 7 luglio, racconta l'arrivo della reliquia del Santo custodita lo scorso anno dai parrocchiani. Il servizio è a firma di Antonella Filannino. Un esempio di amore incondizionato per Dio e per il prossimo, seguendo le orme di San Francesco d'Assisi, un modello di santità che trascende il tempo. Si rinnova la devozione verso Sant'Antonio. Il 13 giugno è la ricorrenza della sua morte, avvenuta nel 1231. Fu lui stesso a chiedere di essere sepolto a Padova, lui che nacque a Lisbona, in Portogallo. A Barletta, nella parrocchia del Buon Pastore, una mostra fotografica per ripercorrere il pellegrinaggio delle reliquie del Santo dei Miracoli che lo scorso anno furono custodite qui. L'anno scorso, in occasione dei 50 anni dell'istituzione della nostra parrocchia, abbiamo ricevuto l'onore come comunità di avere per una settimana le reliquie di Sant'Antonio. E proprio per ricordare quei giorni particolarmente caldi, particolarmente fervorosi dalla devozione a Sant'Antonio, quest'anno abbiamo pensato di realizzare questa mostra fotografica che ricommemora quell'evento. In modo particolare, fra le altre cose che la mostra mette in luce, ci sono le diverse parti del pellegrinaggio. Quando Sant'Antonio ha visitato le officine, le sue reliquie, le officine dei lavoratori della zona industriale della nostra città, il pellegrinaggio nell'ospedale civile, quando le sue reliquie hanno girato tutti i reparti dell'ospedale, quindi il contatto con la malattia, con la sofferenza. E' il santo che l'iconografia raffigura con un giglio simbolo di purezza, oppure con il pane per rimarcare la dedizione di Sant'Antonio verso gli ultimi, verso gli oppressi. Ha in braccio Gesù Bambino che gli apparve negli ultimi giorni di vita. Sant'Antonio aiuta a trovare le cose smarrite, a lui si rivolge chi ha perso il senso della vita e il senso delle cose. Nel giorno della festa, la parrocchia del Buon Pastore celebra la Santa Messa all'aperto alle ore 19 e preseduta da padre Andrea Ricatti a seguire la solenne processione per le vie del quartiere Medaglie d'Oro. Ecco, il messaggio l'abbiamo preso proprio dal messaggero di Sant'Antonio che ci giunge e dal santo è giunta una preghiera tutta incentrata su tre aspetti. Il primo, quello della centralità della famiglia che è in crisi, ha bisogno veramente di sicurezza. Poi quella dei bambini, dei piccoli e in più anche il problema attuale che stiamo vivendo, quello della guerra in tante parti del mondo proprio per invocare la pace. Caro Sant'Antonio, tu che hai accolto tra le braccia Gesù chiedi al Signore di proteggere la mia famiglia, le nostre comunità, il mondo intero e sostieni tutti coloro che soffrono a causa della violenza e della guerra, in particolare bambini, donne e anziani. L'associazione La Doppia Elica ha donato al reparto di radiologia dell'ospedale Don Tonino Bello di Molfetta un densitometro di ultima generazione capace di eseguire esami diagnostici e di prevenzione delle patologie ossee. Sentiamo. Un densitometro osseo digitale di ultima generazione che permette di effettuare valutazioni precise sulla salute delle ossa. L'ospedale Don Tonino Bello di Molfetta si è dotato di questa nuova apparecchiatura tecnologica rispetto alle precedenti che offre funzionalità che la rendono uno strumento completo e affidabile per la diagnosi e la prevenzione delle patologie che interessano l'apparato scheletrico. La donazione dell'apparecchio all'unità operativa di radiologia è stata resa possibile grazie all'associazione La Doppia Elica attiva nella promozione dei corretti stili di vita attraverso diverse iniziative e percorsi di sensibilizzazione. Secondo Luigi Fruscio direttore generale facente funzioni della ASLA di Bari la strumentazione avanzata permette inoltre lo studio della composizione corporea massa grassa massa magra e la valutazione accurata della morfometria vertebrale nonché lo studio dell'osso post-protesi. La radiologia di Molfetta è il quarto centro dell'azienda sanitaria locale barese dopo i presidi di Terlizzi di Venere e Putiniano a disporre di una densitometria digitale. L'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari accoglie per la prima volta studenti di medicina provenienti da Stati Uniti Nepal, Brasile e Messico. L'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari di ricovero e cura carattere scientifico accoglie per la prima volta gli studenti del programma di formazione internazionale Doctors in Italy Followship. Fino a fine luglio un gruppo di 18 studenti provenienti da USA, Nepal, Brasile e Messico frequenteranno in qualità di osservatori alcune delle unità operative di ricerca partecipando in particolare all'attività chirurgica in sala operatoria. Accogliamo con gioia questi studenti così il direttore generale Alessandro delle Donne perché crediamo fortemente nel valore della trasmissione del sapere. Qui gli studenti che arrivano dall'altra parte del mondo troveranno competenza, professionalità e soprattutto quelle buone pratiche di attenzione al malato e all'umanizzazione delle cure che sono la cifra del nostro ospedale. La collaborazione didattica scientifica e assistenziale con le università e i centri pubblici e privati di formazione biomedica è da sempre nella mission di questo istituto. Anche grazie a questi giovani studenti continua delle donne puntiamo a sviluppare rapporti di collaborazione internazionale con istituzioni ed imprese per valorizzare e agevolare il trasferimento delle conoscenze in ambito oncologico. Dopo il progetto congiunto sulla telemedicina ecco un nuovo passo in avanti della collaborazione tra l'Associazione Bicegliese Roma Intangibile e la RSA Villa Veneziani. Ieri la presentazione di una serie di nuovi servizi alla presenza di un centinaio di persone all'interno della struttura sanitaria. Bicegliese scopriamo insieme in che cosa consiste. Questa è la fase 2 di un progetto che è nato quasi per scherzo quasi come un gioco da un caffè al bar con il dottor Daddato e che oggi è nella fase 2 perché abbiamo detto e realizzato il problema della teleassistenza e della telemedicina abbiamo detto e realizzato circa 2000 interventi gratuiti a persone che diversamente avrebbero intasato il pronto soccorso abbiamo detto e realizzato la seconda parte grazie anche all'apporto che il comando dei carabinieri ha fatto donando a Roma intangibile un ecografo con tutti i tipi di sonde e quindi la possibilità di fare diagnostica strumentale per immagini in ecografia per quanto riguarda dai tronchi sovraortici al cuore all'addome totale e anche alle pelvi. noi tra l'altro siamo grati molto grati al dottor Rana per la disponibilità di questa struttura accreditata tra l'altro dall'ASL e oltre alla sua capacità e preparazione perché tutto nasce attraverso il rapporto costante con il dottor Rana sulle prospettive e lo facciamo con molta generosità con molta tranquillità senza chiedere nulla in cambio se non quello di vedere la gente tranquilla perché più la gente sarà tranquilla più la gente è serena saremo anche noi sereni con noi stessi per aver dato e per aver fatto questa attività a beneficio della comunità. È uno spirito solidaristico che vige sul nostro territorio noi dobbiamo cercare davvero di creare una rete ma soprattutto una rete di informazione e poi anche di offerta di servizi per quanto riguarda la prevenzione che è davvero l'unica arma vincente allo stato attuale nei confronti di tante patologie compreso il cancro oggi il cancro è possibile vincerlo non combatterlo soltanto ma vincere questa lotta attraverso la prevenzione abbasseremo notevolmente anche la possibilità di avere delle forme tumorali invasive consideriamo che oggi siamo attestati intorno al 65% come guaribilità per oggi potremmo arrivare già all'85-90% di guaribilità si mettesse in atto soltanto le nostre conoscenze di cui quindi la necessità di divulgare di diffondere questo messaggio ad Andrea ieri in piazza Sant'Agostino è stato inaugurato il nuovo centro servizi per le famiglie Marilena Farinola inaugurato ad Andrea il nuovo centro servizi per le famiglie è finalizzato alla promozione dei diritti dell'infanzia dell'adolescenza e delle responsabilità educative a cura dei professionisti che compongono l'intera equip multidisciplinare e che fa capo al settore servizi sociali dopo numerosi anni di assenza sul territorio un ulteriore servizio a disposizione della comunità andriese grazie a questa amministrazione un'amministrazione che ha voluto investire nelle persone le persone al centro che sono lo slogan di questa amministrazione vede compiuto quello che era uno degli obiettivi primari del centro servizi a partire dal 3 giugno il centro è diventato operativo dopo che la gestione è stata segnata alla cooperativa Sole Luna destinataria del mandato comunale a conclusione dello svolgimento di procedura di gara ad evidenza pubblica abbiamo avuto l'opportunità di poter realizzare questo bellissimo centro servizi per le famiglie che vuole essere un riferimento per il territorio un'occasione un'opportunità per dare alle famiglie un punto di ascolto dove possono venire rivolgersi ai professionisti che vi sono all'interno psicologi assistenti sociali pedagogisti mediatori familiari e avvocati e possono ottenere ogni tipo di consulenza tutto ovviamente gratuitamente è messo a disposizione dal comune di Andria il centro ubicato in piazza Sant'Agostino sarà operativo da lunedì al venerdì di mattina e pomeriggio ed è a disposizione del cittadino un luogo dove poter chiedere supporto confronto e aiuto esistono dei numeri telefonici predisposti che i cittadini possono prendere in considerazione chiamando questi numeri c'è un assistente sociale pronta all'ascolto e a recepire qual è il tipo di domanda che il cittadino vuole fare e a dirottare la domanda su quello che il professionista utile per risolvere la problematica che il cittadino può rappresentare al comune attraverso consulenze specialistiche volte a sostenere la genitorialità e i cittadini proporrà anche laboratori socio-educativi e momenti aggregativi che mirano a promuovere lo sviluppo di reti familiari a valorizzare la dimensione dell'essere genitori e il protagonismo delle famiglie sarà una squadra al servizio delle famiglie del territorio che potranno rivolgersi spontaneamente al servizio ma anche su invio dei servizi sociali il tutto gratuitamente per i cittadini e quindi sosterremo le famiglie sia attraverso consulenze specialistiche offerte alla cittadinanza ma anche attraverso interventi di sostegno alla genitorialità volti all'educazione e alla prevenzione delle situazioni più critiche Sì città in Puglia i vaccini perdono 5 milioni di metri cubi d'acqua ogni settimana la denuncia arriva da Coldiretti che sostiene allarme per campi e stalle vediamo In Puglia i vaccini perdono circa 5 milioni di metri cubi d'acqua ogni settimana la siccità da mesi sta mettendo a rischio tutte le colture dal grano agli ortaggi dalla frutta fino ai pascoli secchi per cui manca l'alimentazione degli animali nelle stalle torna a denunciare lo scenario Coldiretti Puglia nello specifico le aree a rischio desertificazione sono pari al 57% del territorio a causa delle carenze infrastrutturali e le reti colabrodo viene perso pensate l'89% della pioggia caduta il problema illustre a Coldiretti Puglia riguarda le province di Bari Brindisi Lecce Taranto qui non si contano più le segnalazioni quotidiane dall'invaso di San Giuliano in Basilicata dovrebbero essere erogati ogni giorno mille litri di acqua che spesso non arrivano non si contano nemmeno più i pozzi guasti ecco che l'ente regionale sollecita l'ARIF affinché possa intervenire al ripristino del funzionamento dei pozzi artesiani nelle campagne di Noci Toritto e Palo del Colle servono interventi di manutenzione e risparmio denuncia infine la Coldiretti serve un piano infrastrutturale per la creazione di invasi che raccolgano tutta l'acqua piovana che va perduta in modo tale da poterla distribuire quando ce n'è poca Accorato Giuseppe Maldera è stato nominato imprenditore dell'anno ascoltiamo i dettagli nel servizio aver vinto questo premio è stato un grande orgoglio e una grande soddisfazione in quei momenti là mi sono passati dalla mente tutti i sacrifici le sofferenze il grande lavoro che abbiamo fatto per raggiungere questi obiettivi lui è Giuseppe Maldera nominato imprenditore dell'anno dalla sua città natale Corato in provincia di Bari dal piccolo caseificio di famiglia gestito dal nonno prima e dal papà dopo all'azienda che oggi ha un fatturato di circa 60 milioni di euro all'anno e da lavoro a 150 persone siamo partiti nel 2006 con un obiettivo che era quello di produrre la burrata ovviamente nel 2006 era un prodotto ancora artigianale un prodotto che pochi conoscevano nel mondo quindi con caparbietà e con grande spirito di sacrificio abbiamo stretto i denti siamo andati avanti abbiamo aspettato il momento giusto nei prossimi mesi inaugurerà anche un ufficio commerciale in Cina e tutto pronto sono anche arrivate le autorizzazioni governative la Cina ormai è un mondo a parte economicamente sono ben lanciati e anche i loro modi di vivere i loro costumi ormai ci assomigliano prodotto di punta la burrata formaggio richiestissimo dal mercato internazionale la burrata è un prodotto che ormai è conosciuto in tutto il mondo ed è una moda quindi un prodotto che pian piano pian piano si è fatto strada in maniera importante oggi la burrata ricopre il terzo posto della classifica mondiale dei formaggi quindi un risultato importantissimo che qualche anno fa era cioè non avremmo mai pensato di raggiungere questi questi risultati arriviamo in Vietnam arriviamo come ho detto in Cina in Giappone in America in Sudafrica un po' dappertutto e ora come ogni giovedì appuntamento con la rubrica luce e vita a cura della diocesi di Molfetta Ruvo Giovinazzo e Terlizzi scopriamo insieme gli argomenti trattati in questa settimana ben ritrovati ben ritrovati all'appuntamento settimanale diocesi informa con le notizie a cura dell'ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Molfetta Ruvo Giovinazzo e Terlizzi quest'oggi festa in onore di Sant'Antonio di Padova e in particolare segnaliamo alle ore 19 la Santa Messa presieduta da Monsignor Piemontese Vescovo Emerito di Tarni presso il Convento dei Frati Capuccini a Giovinazzo e alle ore 20 e 30 la Liturgia dei Simboli presso la Chiesa Sant'Andrea a Molfetta venerdì 14 giugno presso la Sala Teatro del Convento dei Capuccini a Giovinazzo si terrà la conferenza sull'intelligenza artificiale e gli impatti nella vita quotidiana con l'intervento di Fra Ruggero Doronzo docente presso la Facoltà Teologica Pugliese sabato 15 giugno il Vescovo Monsignor Cornacchia presiede la celebrazione eucaristica presso la Fraternità Francescana di Betania e ordina diacono fra Giuseppe Spagnolo alle ore 17 e 30 e ora entriamo nel vivo del numero 22 del settimanale Luce e Vita di domenica 16 giugno il direttore Don Giuseppe Germinario dedica l'editoriale all'improvvisa e incredula scomparsa di Don Gino Samarelli pervenutaci in fase di chiusura del giornale definendolo artigiano della bellezza classe 54 sacerdote molfettese già direttore della nostra attestata e uomo di profonda cultura parroco per questi 30 anni della parrocchia Madonna della Rosa attualmente parroco del Duomo e ha fondato l'etichetta musicale digressione music e ha insegnato per 20 anni presso il liceo classico di Molfetta siamo vicini ai parenti nella preghiera e lo ricordiamo con grande affetto a pagina 2 Gaetano del Rosso ci propone un excursus storico sociale sull'ospedale di Molfetta con lo studio dedicato all'operapia il tutto a partire dall'epoca medievale fino ai nostri giorni l'articolo prosegue a pagina 8 a pagina 3 spazio all'arte visitabile fino a settembre la mostra dell'artista Vito Zaza a 10 anni dalla sua scomparsa presso il museo diocesano di Molfetta e dedicato alle maternità violate inoltre da 6 anni viene conferita una borsa di studio per gli studenti del liceo classico in ricordo delle due figlie Mara e Diana a pagina 4 la testimonianza di una coppia di genitori in attesa del secondo genito che hanno preso parte al percorso del consultorio familiare diocesano sugli aspetti medici psicologici e relazionali della genitorialità a pagina 5 riflessioni sul percorso in preparazione alla 50esima settimana sociale dei cattolici in Italia ovvero traiettore di partecipazione che è stato promosso dall'ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro insieme a progetto policoro prosegue a pagina 6 la campagna 8 per 1000 con la presentazione dello spazio padre martini un ambiente riqualificato della basilica madonna dei martiri a molfetta un bene condiviso grazie a una firma che non costa nulla e sul giornale riportiamo i dettagli per come donare a pagina 7 la rubrica sulla giustizia e l'etica in particolare continua la riflessione sulla discriminazione positiva e sul concetto di merito con particolare attenzione ai criteri di ammissione universitari nel sottile confine tra diritto e ingiustizia infine in ultima pagina la rubrica di spiritualità a cura di padre Roberto Francavilla grazie per attenzione e buona lettura era l'ultimo servizio si chiude anche questa edizione del nostro notiziario grazie per averci seguito buon proseguimento con i programmi di Teredeon grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti